La nostra risposta sarà contenuta nelle osservazioni che stiamo scrivendo e che invieremo in ragione. Stamattina si è tenuta una commissione consigliare nella quale il livello tecnico del Comune ha espresso delle perplessità e quando si trattano questi argomenti il livello politico non può non partire dai bieglievi fatti dalla tecnica. Peraltro nell'incontro che si è tenuto con il Ministro Salvini per il protocollo d'intesa sullo Scalo Merci mi sono permesso di dire che siccome per Alessandria è una fase importantissima perché si discute del nuovo ospedale, si discute del nuovo Ponte Bormida, di varie altre modifiche, novità, opportunità che la città deve cogliere ma sapendo che cambierà il disegno urbanistico bisogna evitare di fare errori. Dal mio punto di vista siccome l'asse centrale dello sviluppo prossimo della città sarà tra l'asse est rappresentato dal nuovo Ponte Bormida passando per l'area sud per arrivare all'area ovest bisogna evitare di creare troppe infrastrutture che hanno costi elevatissimi e tempi di realizzazione troppo alti. Quindi nelle osservazioni noi inseriremo anche questa visione, cioè di inserirci in questa direttrice per evitare di dover cercare troppe risorse e allungare troppo tempo.